italiane, un marchio importante, oggi abbiamo sentito i lavoratori, questa settimana ci saranno altri due incontri all'interno del quale cercheremo di raggiungere l'obiettivo, cioè di far ritirare innanzitutto i licenziamenti e di far sì che l'esperienza, la storia di un'azienda come questa resti non solo ad Andezeno ma resti all'interno del nostro territorio.